Ma parlando di Rai, attenzione amici, l'abbiamo ribeccato, ve l'ho detto, questo è cascato a tutti gli scherzi dello zoo. È totalmente rincoglionito, ci colleghiamo con l'abbonato Rai. Lo zoo di 105 presenta Presenta L'abbonato Rai Li mortacci vostri L'abbonato Rai Buongiorno, questo è il servizio abbonato Rai, radio, televisione, italiana. Lei è stato scelto per vincere una crociera, Santa Esmeralda con i MIP della serie televisiva, i chiucchioloni. Ma chi sono? Ora prena il tasto, due. Figlio di... No! Dai! No, non gli è piaciuto. Buongiorno, questo è il servizio abbonato Rai, radio, televisione, italiana. Lei è stato scelto per vincere una crociera, Santa Esmeralda con i MIP della serie televisiva, i chiucchioloidi. Ora prena il tasto, due. Ma guarda, non si sente bene, ma... Vuol parlare più forte, perché non capisco. Ora prena il tasto, due. Prenda? Ora prena il tasto, due. Il gatto? Ho detto due. Ma non capisco la parola. Ora prena il tasto, due. Ma prema il gatto? Il tasto? Tasto, due. E quale tasto premo, il due? Ho detto due. Benissimo, altra domanda. Nel film, gola profonda, l'attrice, quanti c***o, riesce a mangiare? Non si sente bene, alzi la voce. Prego risponda. Ripeta la domanda. Benissimo. Nel film, gola profonda, l'attrice, quanti c***o, riesce a mangiare? Dai, testa di c***o. So dieci. Mi compiaccio con lei, anche se sinceramente non me ne prega un gran c***o. Il gatto? Figlio di c***o. Io lo amo questo uomo. Comunque se si fosse riferito alla Canalis sicuramente ha sbagliato numero.